buonasera a tutti buonasera a tutti ciao ciao a tutti benvenuti in un nuovo video allora non è niente nuovo di in questo video voglio fare un semplice slime così mi è venuta una voglia di fare lo slime stasera scusate se rito ma c'è il mio fidanzato dall'altro lato della videocamera che mi sta facendo salire i nervi stasera adesso iniziamo messiamo la colla come sempre allora poi ne siamo la come si chiama la scuba da barba scusate il mio dialetto ogni tanto asce fuori ok ok crema corpo se ne dimentico qualcosa se ne dimentico mi sono dimenticata di prendere una cosa le vado un attimo a prendere e ci vediamo dopo eccomi qui sono andata a prendere lo voglio colorare oddio santo è caduto proprio tutto il tappo ci ho fatto fare proprio il bagno allora chiunque vedrà questo video non venitemi a commentare sotto al video bla 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 è come parli come parli parla come non voglio dire le parolazze perché non si dicono scusate se sentite delle urla ma ci sono non so chi urlano forse stanno giocando allora noi impressionate che guardo dall'altro lato perché c'è il mio fidanzato che sta sul divano e non vuole farsi riprendere perché adesso in questo momento sta proprio prendendo proprio sonno perché disse che quando io faccio il slime il slime lui si mette a dormire e allora così è deciso che sa come venia come venia come venia questo slime tuttutututu andiamo a dare un salto di bicarbonato bicarbonato mi sono impressionato che dico bi aspe di carbonato piper lo otherwise las golden sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.